Musica Napoli travolto e ucciso dall'auto della scorta. La tragedia. In corso Umberto la vettura era di scorta a un magistrato con a bordo due carabinieri. Un 72enne è stato investito e ucciso sulle stresce pedonali, ferita la moglie. Le associazioni denunciano in città troppe vittime della strada. Morto il giovane attore della paranza dei bambini. Dopo nove giorni di coma e deceduto all'ospedale di Castellammare, Adam, l'attore di 23 anni del film tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, era cresciuto a Forcella, a Capodanno aveva avuto un malore. Appalti, sindaco sospeso, ma ora è bufera su Fratelli d'Italia. L'inchiesta sul comune di Palma Campania con l'arresto di Nello Donnarumma, che è vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Napoli. Il partito lo ha sospeso, ma le opposizioni accusano. È il vero volto della destra. Lidi e Ristoranti Fantasma scatta il blitz 61 indagati. La finanza di Napoli e Salerno ha scoperto 12 strutture turistico-ricettive della costa che non avrebbero pagato i tributi locali negli ultimi quattro anni. Contestato un'evasione di 1.700.000 euro, occupato solo De Magnale abusivamente. Era di origini irpine, l'eroe delle torri gemelle. Dolore a Sant'Angelo dei Lombardi per la morte di Joe Esposito, l'ex capo della polizia di New York, protagonista di soccorsi nell'attentato dell'11 settembre. Voleva ritornare in Alta Irpinia. Il sindaco gli renderemo omaggio. Caos nei pronto soccorso. Medici di base si difendono. Il picco influenzale nel sannio sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, ma i medici di famiglia respingono le accuse. Siamo subissati di visite. E nel Salernitano SOS al prefetto dopo l'ultima aggressione in ospedale a Nocera. Buongiorno, questi i titoli del nostro Tg. In apertura c'è la cronaca. Una nuova tragedia della strada a Napoli. L'auto di scorta di un magistrato con a bordo due carabinieri. ha investito e ucciso un 72enne. L'uomo stava attraversando Corso Umberto sulle strisce pedonali con la moglie che è rimasta ferita. Vediamo. Continua la strage di pedoni sulle strade di Napoli. La prima vittima del 2024 è il 72enne Francesco Esposito. Martedì mattina stava attraversando sulle strisce pedonali in Corso Umberto quando è stato investito da un'auto dei carabinieri utilizzata per il servizio di scorta per i magistrati. A bordo due militari, entrambi in servizio presso la procura partenopea. Con lui c'era la moglie, settantenne di origine ucraina, che ha riportato fratture multiple. Esposito è deceduto dopo alcune ore dal ricovero all'ospedale Pellegrini. Troppo gravi le ferite riportate nel violento impatto. Procede con le indagini l'unità operativa infortunistica stradale della polizia locale. I due carabinieri che erano nell'auto che ha investito i due pedoni non erano addetti al servizio di scorta o di tutela di magistrati della procura di Napoli, ha chiarito il procuratore Nicola Gratteri. Mentre si attende una ricostruzione di quanto accaduto in quei drammatici attimi, le associazioni lanciano l'allarme sugli incidenti stradali mortali che non smettono di verificarsi in città. Tempo fa abbiamo consegnato a questa amministrazione l'indagine demoscopica commissionata all'Ipsos dove si evince chiaramente che più dell'80% dei napoletani vuole una mobilità verde e sostenibile. È tempo che chi governa garantisca la sicurezza a ciclisti e pedoni. I napoletani devono potersi muovere in totale sicurezza. È morto a Castellamare di Stabia l'attore e modello Adam aveva avuto un arresto cardiaco nelle prime ore del primo gennaio, era in coma al San Leonardo, era stato l'attore della paranza dei bambini. Vediamo. È morto Adam Iendubi, l'attore e modello napoletano, in coma dal primo gennaio in seguito ad un arresto cardiaco. Ricoverato all'ospedale San Leonardo di Castellamare di Stabia, il 23enne si è spento nel pomeriggio di ieri e la famiglia, rispettando le sue volontà, ha comunicato l'espianto degli organi. A dare la notizia della morte di Adam è stato su Instagram il fratello Abib che ha scritto Hai dimostrato di essere un leone fino alla fine. Di origini tunisine e polacche, Adam era cresciuto a Forcella, era noto al grande pubblico per aver recitato in diversi video di Liberato e per il ruolo di aucelluzzo nel film L'apparanza dei bambini. Il giovanissimo attore era stato soccorso all'alba di Capodanno in arresto cardiaco. I primi test tossicologici non avevano riscontrato tracce di alcol e droga, mentre un'attacca aveva evidenziato un grave edema cerebrale. Da Roberto Saviano a Giollier, passando per Francesco e Lettieri, sono stati tanti messaggi di cordoio per Adam. Liberato ha pubblicato su Instagram una storia con una foto dell'attore e un cuore azzurro. Roberto Saviano, autore del libro da cui è stato tratto il film L'apparanza dei bambini, su Instagram ha dedicato un lungo posto all'attore. Adam aveva il viso della Nuova Napoli, metà polacco, metà tunisino e completamente partenopeo. Ecco perché era così bello, sommava più culture. Ed è sempre così. La bellezza nasce da ciò che si mischia, si intreccia, si confonde perché dispone la vita in forme nuove e inaspettate. Violenta è il nipote di 11 anni e lo filma, arrestato lo zio Orco, è accaduto a Torre del Greco in provincia di Napoli. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni. Le indagini condotte dai militari della stazione di Torre del Greco e coordinate dalla procura hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell'arrestato, quale autore di atti sessuali commessi ai danni del nipote di soli 11 anni. Le denunce presentate dalla madre del minore a partire dal mese di maggio 2022 hanno permesso di accertare che l'indagato, approfittando del rapporto parentale che lo legava alla vittima, avrebbe indotto il ragazzino a subire atti sessuali, a farsi dei video che lo ritraevano senza veli e a assistere agli atti di onanismo, come si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fraiasso. La procura di Salerno indaga sulla presunta aggressione avvenuta all'uscita di scuola di un comune della Piana del Sele dove una dodicenne sarebbe stata incappucciata e sequestrata. La ragazzina sarebbe stata poi abbandonata davanti al cimitero degli inglesi a Monte Corvino Pugliano. accompagnata dalla madre all'ospedale di Battipaia è stata sottoposta a una visita ginecologica che avrebbe evidenziato segni di una possibile violenza sessuale pregressa. Ed ora la bufera giudiziaria del comune di Palma Campania con l'arresto del sindaco Nello Donnarumma che è anche vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia di Napoli. Il partito lo ha sospeso, intanto le opposizioni denunciano la questione morale della destra e l'intreccio criminale tra politica e affari. L'indagine della procura di Nola ha terremotato il comune di Palma Campania con l'arresto, tra gli altri, del giovane sindaco Nello Donnarumma. I magistrati contestano un patto corruttivo tra la politica locale e gli imprenditori. Nelle intercettazioni finite nell'ordinanza cautelare firmata dal GIP si fa riferimento ai 20 milioni di euro in arrivo per una serie di opere pubbliche. Il caso giudiziario di Palma Campania agita anche la politica provinciale e regionale. Donnarumma, vice coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Napoli, è stato subito sospeso dal partito. Lo ha fatto sapere il commissario Antonio Iannone che parla di vicenda molto grave. Il sindaco palmese entrò nel partito tre anni e mezzo fa. Ad accoglierlo, tra gli altri, l'attuale ministro Lollo Brigida e il sottosegretario del Mastro. Dure accuse dai partiti di sinistra. Noi sappiamo che il sindaco era una risorsa della Meloni. Io credo che la Meloni deve cominciare davvero a scegliere tra le sue risorse perché mi pare che ultimamente, come devo dire, queste risorse abbiano fallito. Evidentemente non hanno quella capacità, non hanno quel senso delle istituzioni che viceversa si richiede a una classe dirigente. Critiche anche dal Movimento 5 Stelle. Per Caffiero De Rao in Fratelli d'Italia esiste una questione morale che la premier Meloni non vede. Intanto il prefetto di Napoli è sospeso Donnarumma dalla carica. I consiglieri comunali di maggioranza di Palma Campania hanno espresso solidarietà e vicinanza al sindaco indagato. L'Idi e Ristoranti Fantasma, la Guardia di Finanza di Napoli e Salerno ha passato al setaccio le strutture turistico-ricettive della costa. L'operazione, ribattezzata Playa Bonita, ha individuato ben 12 strutture che non avrebbero pagato i tributi locali tra il 2018 e il 2022 con un'evasione contestata di oltre 1 milione e 700 mila euro. I controlli delle fiamme gialle in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati di 61 imprenditori del turismo. Le accuse a vario titolo sono reati urbanistici, ambientali, occupazione abusiva del demanio marittimo e fluviale per strutture realizzate in aree già compromesse dal punto di vista idrogeologico. Nell'ambito della stessa operazione sono state elevate sanzioni amministrative per circa 100 mila euro. Lutto e cordoglio a Sant'Angelo dei Lombardi, paese d'origine di Gio Esposito, capo della polizia di New York, morto dopo una lunga malattia, il sindaco del comune Altirpino lo ricorda. Sentiamo. E' scomparso Gio Esposito, è stato il 49esimo capo della polizia di New York, di origine di Sant'Angelo dei Lombardi dove era nata sua madre. Gio Esposito ha guidato per due mandati la famosa polizia di New York con brillanti operazioni contro la criminalità, il traffico di droga, operazioni finanziarie. Aveva guidato e diretto il dipartimento al comando di migliaia di agenti e detective. Andato in pensione qualche anno fa gli venne affidata da parte dello Stato di New York la supervisione della gestione della sicurezza di crimini e criminalità moderna. Esposito è venuto in Italia nel 2009. Ospite della polizia di Stato del Ministero dell'Interno si recò a Padula e poi a Palermo. Ricevuto con tutti gli onori in quella occasione, volle far visita al paese dove era nata sua madre e dove erano vissuti i suoi nonni. E quindi si recò a Sant'Angelo dei Lombardi dove tra l'altro la Proloco gli consegnò una targa celebrativa. Ed oggi il comune lo vuole ricordare e omaggiare con iniziative in collaborazione proprio con la Proloco. Questa mattina ho incontrato anche il presidente della Proloco. Gli ho detto che sarebbe opportuno incontrarci e studiare insieme una iniziativa perché sicuramente è importante la funzione del comune e quindi voglio dire l'iniziativa sarà del comune però è anche giusto condividere con chi già in passato aveva preso l'iniziativa dandogli questo riconoscimento. Il cancro a 23 anni, la storia di Martina e l'impegno per salvare le donne è operata al seno e fuori pericolo. Racconta Otto Channel un anno in cui ho capito il vero valore della vita. Il cancro non ha età, lo racconta con gli occhi lucidi Martina Morelli, 24enne di Campolattaro giovanissima volontaria della rete campana della prevenzione del tumore al seno. Martina ha scoperto per caso un anno fa a soli 23 anni dall'estetista quella massa operata prima a Benevento poi a Milano per un carcinoma di terzo grado ha subito una mastectomia totale del seno sinistro. Poi le lunghe cure, la chemiorossa, quella bianca, la caduta dei capelli tutto affrontato con la forza e la tenacia di una donna che vuole rinascere. Il mio motto è crederci sempre e arrendersi mai. Esistono i periodi bui però ecco bisogna darsi forza, tanta forza, coraggio e soprattutto essere circondati dall'amore. E Marina in questi lunghi mesi di cure davvero non si è mai arresa. Lo scorso 5 dicembre si è anche laureata. Con la mia ciurma siamo partiti, siamo andati a Siena, mi sono laureata ed è stata la cosa più bella ad oggi. Oggi Martina è una ragazza diversa che del suo personale calvario ha fatto impegno nella lotta al cancro come volontaria della rete Amdos e Amos capeggiata dal senologo Carlo Iannace. Sono entrata a far parte di questo esercito rosa perché ovviamente sento la necessità di poter aiutare tante altre donne e soprattutto ragazze giovani che stanno affrontando questo percorso difficile oppure che hanno paura ad affrontarlo perché molte donne hanno paura. Quindi mettetecela tutta e noi, io personalmente, vi posso aiutare al 100%. A Napoli la presentazione del Congresso Nazionale dell'Associazione degli Spettacoli Viaggianti con la categoria che chiede un impegno per individuare aridonie per Luna Park e Circhi. Campania è una regione all'avanguardia sul fronte degli spettacoli itineranti ma non mancano criticità come denunciato dall'Associazione Nazionale degli Esercenti degli Spettacoli Viaggianti dai Circhi ad altri tipi di divertimenti come il Luna Park. La regione Campania è l'unica regione in Italia che dà finanziamenti diretti al settore. Ci sono delle criticità perché non tanto dall'aiuto della regione Campania ma da parte delle amministrazioni pubbliche comunali perché è la mancanza di aree che crea poi le criticità perché le attrazioni ci sono, gli esercenti sono pronti ma mancano le aree e questo sarà uno degli argomenti fondamentali del Congresso. La richiesta è un sostegno a partire dall'individuazione di aree idonee e anche la sostituzione delle attrazioni. Noi chiederemo un sostegno per la categoria dello spettacolo viaggiante che riguarda soprattutto la possibilità di lavorare quindi l'individuazione di aree e di spazi per installare i nostri Luna Park. Chiederemo anche un'attenzione normativa che riguarda il ricambio delle attrazioni, delle nostre giostre perché le nuove attrazioni sono più aggiornate anche sotto il profilo della sicurezza, del pubblico e soprattutto sono più rispondenti ai gusti che ormai sono mutati. Il picco influenzale nel Sannio sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, in particolare i medici di base a chi chiede loro un maggiore impegno per evitare file ai pronto soccorso rispondono subissati di visite e telefonate. Vediamo il servizio. Sono migliaia nel Sannio i pazienti colpiti dalla violenta influenza stagionale che quest'anno è caratterizzata da picchi di febbre molto alta che dura anche giorni e problemi all'apparato respiratorio. Ad essere maggiormente colpite sono le persone fragili, specialmente gli anziani. Lavoro per i medici di base subissati di richieste per le visite a domicilio e di telefonate. Sembra che si sia toccato il picco più alto negli ultimi dieci anni in quanto oltre al virus influenzale stagionale, non ci dimentichiamo che il Covid è ancora in circolo, ci sono altri virus respiratori che appunto si diffondono facilmente tra la popolazione e quindi questo fa sì che il picco ha raggiunto veramente il massimo. Boom di accesso anche nei pronto soccorso. Secca la risposta dei medici di base a chi chiede loro un maggior impegno per evitare l'affollamento dei presidi di emergenza ospedalieri. Pur con la massima solidarietà per i colleghi del pronto soccorso, io posso tranquillamente dire che noi medici di famiglia veramente facciamo un lavoro enorme. Posso dire che in questi giorni ciascuno di noi risponde ad oltre 100 telefonate. sono raddoppiate se non triplicate le visite nei nostri studi, nei nostri ambulatori, così come le visite a domicilio. Non ci dimentichiamo che sono tante anche le persone che presi in preda dal panico, dalle preoccupazioni, si recano in ospedale autonomamente per fare accertamente, per farli eventualmente anche gratis. Violenza in corsia anche nel Salernitano, dove è stata aggredita un'infermiera dell'ospedale. Umberto I di Nocera Inferiore, la FIALS dice episodi inaccettabili. Sentiamo. Si moltiplicano i casi di violenza in corsia anche nel Salernitano. L'ultimo episodio si è verificato all'Umberto I di Nocera Inferiore, dove un padre si è scagliato contro un'infermiera di pediatria. In particolare l'uomo pretendeva di accedere il reparto per avere informazioni sulle condizioni della figlia, che era già in compagnia della madre. Al rifiuto ha strattonato l'infermiera, che ha riportato una prognosi di otto giorni. La Will FPL, rappresentata da Mario Polichetti, ha chiesto la convocazione di un tavolo in prefettura. Dura anche la presa di posizione della FIALS Salerno. La nostra richiesta è quella che sarà sollevata da diversi anni a questa parte. Ricordiamo che a Nocera, due anni fa, ci fu anche un flash mob organizzato dalla FIALS di Salerno sulla violenza degli operatori. E' quello di istituire dei trappelli di polizia. Ricordiamo che l'ospedale di Nocera è un ospedale che è perennemente in difficoltà per carenza di medici, infermieri, operatori sociosanitari. È un ospedale che raccoglie un bacino di utenza grandissimo, calcolato che anche i paesi del Vesuviano si riversano per attività di assistenza all'interno di Nocera. Quindi ci escediamo di un vero e proprio trappello di polizia all'interno del presidio in modo da ridurre o provare almeno a ridurre questi episodi che ormai avvengono tutti i giorni. Il tutto, tra l'altro, si è verificato a pochi giorni dalla tragedia avvenuta nell'ospedale di Nocera Inferiore dove ha perso la vita una neonata. La procura di Nocera Inferiore ha aperto un'inchiesta nella quale risultano indagati cinque medici. Tre edifici per la cittadella sanitaria dell'asola di Benevento sarà realizzata in due anni la prima pietra con il governatore De Luca che ha invitato a stringere i tempi. Sentiamo. Sorgerà in via del Cogliano affiancata all'ospedale San Pio la nuova cittadella sanitaria dell'asola di Benevento. Si tratta di un progetto ambizioso che dovrebbe essere realizzato in due anni e che migliorerà l'assistenza sanitaria territoriale. Ieri la posa della prima pietra con il governatore Vincenzo De Luca. Una giornata davvero importante, bella, entusiasmante. Due anni per completare questo lavoro. Fate un anno e otto mesi se ci riuscite che meglio. Faremo di tutto per avvicinare la nostra sanità ai cittadini. Stiamo lavorando per estendere la rete di medicina territoriale di centri antidiabete. Un'altra cosa che stiamo cercando di fare. Unica regione d'Italia. Ad illustrare nel dettaglio il progetto il direttore generale dell'azienda sanitaria di Benevento, Gennaro Volpe. Tre edifici. Uno riguarda, forse il più importante, quello del Dipartimento della Salute Mentale. Quindi dove faremo sia la parte della cura ma anche la riabilitazione. Un altro sarà il Dipartimento di Prevenzione con sicuramente grande attenzione alle vaccinazioni, grande attenzione agli screening e l'altro sarà la palazzina della direzione strategica. Questo intervento è voluto anche, e lo sottolineo, anche per la dismissione dei fitti passivi. Chiuderemo una serie di fitti passivi di epoca precedente alla nostra. Il contenimento è importante della spesa però alla base ci saranno delle strutture che sono avanzate quindi su questo veramente bisogna ancora lavorare. Una scuola di alta formazione musicale è stato presentato il progetto in collaborazione con l'Abbazia di Montevergine e il Comune di Mercogliano. È stato presentato questa mattina presso la Biblioteca Statale di Montevergine a Mercogliano un progetto per promuovere valori artistico-musicali in Irpinia. L'accordo è tra le associazioni virtuosi napoletani per mettere in piedi una scuola di alta formazione musicale. Creare un laboratorio orchestrale di giovani musicisti che verranno ovviamente affiancati da importanti direttori d'orchestra solisti internazionali e poi dopo la formazione di un coro giovanile regionale curato anche dal maestro Roberto Maggio. La sede operativa naturalmente sarà l'Abbazia del Loreto. Questa sede dell'Abbazia sarà la sede di questa operativa insieme all'istituto comprensivo e poi dopo da qui sicuramente se i comuni vorranno e se ci sarà veramente l'apporto politico istituzionale potremmo attraverso questi giovani anche ripeto provenienti dall'estero potremmo creare una sorta di cartellone irpino dove la provincia ha qualcosa di non sporadico ma di continuativo e quindi fare cultura a 360 gradi. Un quartiere abbandonato dove regnano caos, cantieri e ci sono poca pulizia e sicurezza. Questa è la denuncia dei residenti e commercianti del rione Carmine di Salerno alle telecamere di SOS Città. Le telecamere di SOS Città a Salerno nel quartiere Carmine tante le problematiche che denunciano i residenti dal caos generato dai cantieri alla sicurezza e alla pulizia una situazione difficile anche per gli esercenti che sono preoccupati. C'è un asfalto che non è possibile camminare anche un motorino se va sopra può scivolare da quelle parti là poi è un mese e mezzo che siamo così in questa via di balena per i lavori e non è stato portato nulla a termine. Questione parcheggi che non ci sono il cliente non può fermarsi un attimo per venire a spendere. Per i cittadini sono diverse le tematiche da portare all'attenzione dell'amministrazione. La sciapie di nuove, buche che non ve ne dico e poi soprattutto la pulizia. Più pulizia? Tanta, tanta pulizia. Ci sono dei problemi, non è possibile lasciare le strade che sono comunque abbastanza rotte a Salerno quindi quando vediamo che fanno i lavori a noi ci fa solamente piacere. Però a volte basta minimamente organizzarsi da un punto di vista del servizio. Non vedo mai gli spazzini, ci sono ghiande dappertutto è facile che si possa scivolare. E poi gli alberi, gli alberi che non vengono curati. Penso che ci vorrebbe un po' più di attenzione da parte delle istituzioni. Altrimenti va tutto a rotoli. La pavimentazione, l'arredo urbano soprattutto. L'ultima notizia, il Tg termina qui. Grazie di averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.